Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, venerdì 10 novembre, tornato finalmente a casa dopo la mia trasferta di lavoro qui per un contributo sul quale voglio commentare la conferenza a stampa di Massimiliano Allegri, quindi in ottica Juve Cagliari di domani sera Allian Stadium ore 18 e poi terminare un po' i discorsi relativamente, terminare, allungare perché poi termineranno soltanto quando il mercato sarà realmente finito, non è ancora iniziato, figuriamoci. Rialmente al mercato perché anche ieri ospite dell'amico Raffaello Corvo sul canale di Juvemi abbiamo avuto modo di affrontare quelli che potrebbero essere i rinforzi per la mediana bianconera. Prima di farlo potrei invitarvi a iscrivervi al mio canale YouTube ma non lo faccio. Non lo faccio oggi per una sorta di, chiamiamola pure polemica, perché prima di cominciare ad analizzare voglio chiarire una cosa che mi ha dato tremendamente fastidio relativamente ad una mia richiesta che è in esordio definito proprio come un grosso piacere che chiedevo alla community qui sul mio canale. Ovviamente non ho specificato e forse qui ho fatto l'errore magari a quella con la quale interagisco ormai da tanto tempo mi permetto di farlo ma ho chiesto e questo ha scatenato abbastanza polemiche di apporre un voto ad un concorso. Non mi sarei mai aspettato che qualche d'uno se ne uscisse con messaggi come quelli che ho letto. Gente che mi scrive di essere patetico, gente che mi accusa di approfittare di una cosa del genere che è sleale e che si disiscrive. Ragazzi ve lo dico adesso non iscrivetevi al mio canale YouTube, anzi disiscrivetevi tutti quanti voi che avete pensato che io fossi patetico nel fare questo tipo di richiesta che era semplicemente un piacere, non era un obbligo per nessuno, ognuno liberissimo di pensarla come voleva. Se voleva partecipare alla mia richiesta e quindi farmi il piacere, bene, non ho chiesto conto quindi non doveva stare nemmeno a dire l'ho fatto. Chi lo voleva fare lo faceva, chi non lo voleva fare non lo faceva. Ma figuriamoci, assurdo, davvero assurdo, tant'è che ho ringraziato chiunque eventualmente avesse aderito al mio invito. E basta, tutto finiva lì. Mi sembra che, tra l'altro nel regolamento c'è scritto di votare e di invitare la gente a votare, quindi non ho mancato di rispetto a nessuno, non ho fatto nulla di così tragico, così come invece è stata messa da tanta parte di voi. Ho bannato un utento del canale ma ho deciso da oggi in avanti che chiunque traviserà le mie parole, appiccichandomi cose che io non ho detto, significati alle mie parole, diversi da quelli che sono l'interpretazione chiara di un testo italiano e anche di ciò che dicono i contenuti, comincerò a bannare. Perché ve lo dico molto sinceramente, e mi dispiace se ne sto facendo una polemica, 21.000 iscritti mi interessano nel momento in cui c'è rispetto reciproco, nel momento in cui aderisce gente al canale che la prima cosa che io dico che non gli va bene, invece di esprimere una propria opinione, mi accusa di essere patetico o di averlo deluso per una caduta di stile, perché non si fanno queste cose, ma ragazzi ma state scherzando, ma ho chiesto dei soldi a qualcuno, ho detto a qualcuno di fare una cosa, altrimenti io avrei fatto qualcos'altro, è un piacere che ho chiesto, e addirittura qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire che non ho chiesto un piacere, ma ho fatto un appello, per favore, le polemiche, spendetele per qualcos'altro, non portano a nulla, e l'ho detto, poi qualcuno mi accusa perché io mi sia stizzito, e certo che mi stizzisco, mi stizzisco è come nel momento in cui si travisa il contenuto di un testo scritto chiaramente in italiano, o addirittura mi si mettono in bocca parole che non ho mai detto, perché trattasi di un piacere, se lo volete fare lo fate, e l'ho fatto, ripeto, con una community con la quale ormai da diverso tempo mi confronto quotidianamente, non mi sembrava di aver chiesto nulla di grave, so che vi ho tediato con questa cosa, ma ci tenevo, perché a me quando succedono queste situazioni mi dà tremendamente fastidio, perché uno può esprimere la propria opinione, liberissimo di dire, io non ho votato perché non lo reputo opportuno, gente che mi scrive, devo votare perché, che cosa voto, uno che non l'ho mai visto giocare, ma scusate, ma se l'amico del vostro amico vi avesse chiesto di votare la figlia, perché a pattinaggio c'è un concorso, voi gli avreste risposto, no, non ve la voto perché voglio vederla prima a pattinare, siete ridicoli, ve lo dico proprio candidamente, con queste giustificazioni siete stati ridicoli molto di più dell'errore che ho fatto io nel chiederlo, ripeto, vota ed invita a votare, fa parte del programma, del concorso. Detto questo veniamo alla formazione, e scusate, mi chiedo scusa a tutti, veniamo alla formazione, perché Massimiliano Allegri in conferenza stampa, credo che abbia lasciato trasparire una situazione abbastanza chiara, ovvero quella della difesa confermatissima, Gatti e Rugani Bremer, non ci sarà spazio dal primo minuto per Dean Huysen, credo che lo voglia fare per non dare adito a Alibi, ovvero di aver lui per primo sottovalutato l'importanza di questo match, che lo ribadiscono, nonostante il blasone sia chiaramente diverso rispetto al Milan, rispetto anche alla Fiorentina, resta pur sempre una partita difficile perché viene in una partita in casa, che sulla carta è abbordabile, ma la Juve in queste partite è spesso andata in difficoltà quando deve aggredire, fare lei la partita, e si trova magari squadre ben organizzate che difendono bene e ripartono per far male. Tra l'altro Cagliari, se non sbaglio, viene da tre vittorie consecutive, Cagliari di Ragneri che ha ingranato, Ragneri il quale mi è piaciuto molto nella sua conferenza stampa per tutto quello che ha raccontato del suo passato bianconero, e differentemente da quanto qualcuno ha cercato di incalzarlo sul sassolino e da estrapolarsi dalle schiarpe, ha detto io sarò sempre grato a chi mi ha portato alla Juventus, dirò la verità quando avrò smesso di allenare in merito alla questione se lo hanno mandato via o se magari è stato lui a scegliere di lasciare la Juventus. Detto questo, altra situazione, mancherà Rabiot, chi giocherà in mezzo? Io credo, credo che possa giocare in mezzo McKennie e lo dico perché penserei che Cambiaso da Mezzala può essere una soluzione magari a partiti in corso, potrebbe invece a partita diciamo dall'inizio essere preferito sull'esterno, Cambiaso a bidestro può giocare sia a destra che a sinistra, quindi con Kostic confermato a sinistra, Cambiaso sulla destra e McKennie dirottato nel ruolo di Mezzala. Il resto è confermato, Locatelli in cabina di regia e Miretti nel suo ruolo anch'esso di Mezzala di inserimento. Davanti, credo che ci stia un dubbio, McKennie appena premiato come Man of the Month, MVP, uomo del mese di ottobre, potrebbe trovare ancora una maglia titolare affiancato da Federico Chiesa. Vediamo se sarà Ken o Blachowicz ad accompagnare Chiesa là davanti all'assalto della vittoria contro i Cagliari. Sarebbe, se non sbaglio, la numero 5 consecutiva. Speriamo che la Juve continui a mantenere la porta imbattuta per consentire a Szczesny di proseguire il suo percorso di imbattibilità, salito a quota 540 minuti circa, se non vado errando. Tra l'altro Szczesny che è confermatissimo titolare e Allegri ha detto, dispiace per Mattia Perin, che tra l'altro oggi compie gli anni, quindi auguri a Perin, ma con meno partite a disposizione, purtroppo per questa stagione, per Perin ci sarà meno spazio. E poi veniamo al mercato, perché voglio finire quell'argomento trattato anche ieri sera, appunto sul canale dell'amico Raffaello Corvo, ma anche qui sul mio stesso canale, in merito al papabile. Io continuo a rimanere molto indirizzato su una figura Samarzic-De Paul, per caratteristiche, perché per caratteristiche Allegri ha chiesto, vorrebbe una mezzala di inserimento, una mezzala in grado di garantire anche delle segnature. Un giocatore che conosce già la Serie A e quindi l'identikit di Samarzic e di De Paul credo che siano i maggiori indiziati. Poi è verissimo che la Juve è stata con il suo management dirigenziale e direttivo in termini di operatività di mercato Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna ad assistere alla partita tra Tottenham e Chelsea. Hanno incontrato diversi operatori di mercato, procuratori, agenzie che assistono determinati giocatori per fare un pochino il punto della situazione per capire i margini eventualmente di manovra su determinati figure. Quelle che più, diciamo, sono chiacchierate sono quella di Calvin Phillips che ha dato la sua disponibilità di massima. Ma perché io vedo poco Calvin Phillips alla Juventus? Poi magari si chiuderà, perché la Juve, l'ho detto, cerca sicuramente numericamente di fare un rinforzo lì in mezzo al campo dopo le qualifiche di Pogba e di Fagioli. Però Calvin Phillips, che accetterebbe la Juve di buon grado e il Manchester City sarebbe ben lieto di accederlo alla Juve in prestito anche secco per sei mesi, da gennaio a giugno, per non ritrovarselo come rivale in Premier League. È un giocatore che non risponde alle caratteristiche che cerca la Juventus perché è fondamentalmente un mediano, è un giocatore di rottura, è un giocatore di difesa, un recupero palloni, non è una mezzale di inserimento, non è un giocatore che ha gol nel sangue, non conosce la Serie A e quindi sarebbe davvero magari un'opportunità a basso costo ma con il rischio di metterti in casa un giocatore che dovrebbe pagare lo scotto dell'ambientamento e comunque non rispondere alle caratteristiche del centrocapista che la Juve cerca. È più eventuale un sostituto di Locatelli che comunque è più regista di Calvin Phillips che è più veramente un mediano di rottura. L'altro nome è quello di Pierre-Emile Oiberg del Tottenham. Qui il giocatore ha certamente riscontrato una sorta di indice di gradimento da parte della Juve ma anche qui se andiamo ad analizzare a fondo le caratteristiche del giocatore ribadisco sono ben lontane dai Samarzic e ancora di più dai Rodrigo De Paul perché Oiberg è più offensivo rispetto a Calvin Phillips però è sempre un giocatore comunque è meno centrale può giocare magari un pochino più da Mezzala anche lì ho qualche dubbio sinceramente però è un altro giocatore che io lo vedo più come un possibile sostituto di Locatelli è considerato che fin tanto che ci sarà Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve Locatelli giocherà in quella posizione e non giocherà nel ruolo di Mezzala ruolo per il quale credo rarissimissimamente se si può dire è stato impegato in quel ruolo allora quando c'era Arthur penso appunto che sia difficile come abbinamento a meno che non si voglia far giocare dei giocatori magari un po' fuori ruolo pur di inserire un elemento inorganico per cui ad oggi Partey lo escludo categoricamente Phillips e Oiberg per caratteristiche mi convincono poco continuo a battere la pista di tenere attenzionati Samarzic e De Paul chiaramente non sarà facile perché poi ci sono le società di appartenenza che avranno le loro esigenze che avranno le loro richieste e qui bisognerà capire se ci sarà la possibilità di assecondarle ditemi la vostra ci sentiamo presto mi scuso ancora per l'arrabbiatura ma purtroppo sono fatto così non riesco a lasciar passare quando non è una critica che può essere anche costruttiva ma quando si polemizza e mi si mettono in bocca cose che non corrispondono a ciò che io volevo assolutamente esprimere scusatemi buon proseguimento fino alla fine Forza Juve Ciao